Sono in corso nella zona di Terrasini le ricerche di un ragazzo di 22 anni che ieri pomeriggio era andato a fare un bagno in un tratto di costa in Contrada Paternella, non lontano da Città del Mare e dalla Baia di San Cataldo. Con lui c'era un suo amico Daniel Cirasi di 20 anni e riuscito però a risalire dopo 20 minuti. Trasportato all'ospedale civico di Partinico è stato medicato per le contusioni e i graffi rimediati nella scogliera che ha urtato più volte a causa del maragitato, dell'amico partinicese invece nessuna traccia. Per ora i militari della Guardia Costiera insieme ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno perlostrato l'aria nel tentativo di soccorrere il giovane ma con esito negativo. Condizioni meteo permettendo le operazioni proseguiranno senza sosta con il supporto dei mezzi aerei della Polizia e della Guardia di Finanza. Saranno ore di preghiere e di speranza per tutti noi, dichiara il sindaco di Partinico Pietro Rao. Un ringraziamento a tutti gli uomini delle Forze dell'Ordine interessati nelle ricerche che sono ancora in corso.